Le elezioni sono finite e ora i perdenti hanno trovato un altro modo per attaccare Giorgia Meloni, denigrare i nomi che entrano nel toto ministri Parole al veleno che accompagnano ancora una volta le cronache di questi giorni sulla formazione del nuovo esecutivo La sinistra ma anche il terzo polo hanno la presunzione di voler dettare la lista dei ministri al centrodestra In queste ore prende piede l'ipotesi di Paolo Scarone al di Castero dell'Energia, un ruolo chiave per affrontare la sfida più grande per il paese in questo momento Dal Ministero dell'Energia passerà tutta la strategia per andare a definire una risposta concreta alla crisi che sta letteralmente svuotando le tasche degli italiani Ma a quanto pare qualcuno non gradisce nemmeno il nome di Scarone all'interno di un ipotetico governo Meloni Siamo infatti nel campo delle ipotesi, la premier impettore non ha ancora annunciato la lista dei ministri Ma anche solo una indiscrezione basta subito a scatenare una tempesta d'odio da parte degli avversari del centrodestra E così questa volta tocca a Calenda andare all'attacco mettendo nel mirino proprio Scaroni Paolo Scaroni è il maggior responsabile insieme a Berlusconi della nostra dipendenza dal gas russo Nominarlo Ministro dell'Energia e qui varrebbe a metterci l'ad di Gantrom Evitiamo Fanno gratuito su uno dei più grandi manager italiani Ormai chi ha perso le elezioni si aggrappa a tutto pur di mettere in cattiva luce il nuovo esecutivo Grazie a tutti Grazie a tutti